I cieli dell'Abrianza Lecchese saranno meno frequentati e forse anche meno inquinati. Grazie alle sedute della Commissione Territorio di Regione Lombardia, convocate sul tema dal consigliere lecchese Mauro Piazza, la questione delle rotere in transito sul Meratese potrebbe evolvere positivamente. Dalla scorsa primavera gli aerei che atterrano a Oriol Serio hanno modificato il loro percorso sorvolando i comuni dell'Abrianza Lecchese, non senza qualche preoccupazione. Questi incontri, l'ultimo dei quali si è tenuto giovedì, spiega piazza, hanno permesso di convocare al tavolo anche i comuni di Merate, Inversago, Cernusco, Lombardone e Lomagna, inizialmente esclusi dal dibattito in quanto la loro presenza non era contemplata nella Commissione Aeroportuale di Oriol Serio. In questo modo, prosegue il consigliere di Energie per l'Italia, anche le problematiche dei comuni del Meratese, le prese con un aumento dell'impatto acustico delle rotere, sono giunte all'attenzione di Enac e Enav. A questo punto potrebbero arrivare interventi migliorativi e in corso di valutazione prosegue piazza la diminuzione degli atterraggi da ovest, meno 7 al giorno in transito su Merate ed intorni. Oltre ciò, Regione Lombardia si farà portavoce in arpa affinché vengano effettuate precise misurazioni in ordine all'impatto acustico e ambientale dei voli su Meratese, dati che al momento non sono disponibili. Se poi questi confuteranno le sensazioni, conclude piazza, cioè ci diranno che rumore e inquinamento sono nei limiti di legge, tanto meglio. Potremo in ogni caso tranquillizzare i cittadini sulla base di elementi certi. I portavoce di Arpa e Enav, dice il consigliere del PD Raffaele Straniero, ci hanno detto che dopo il fallimento della sperimentazione interrotta a ottobre ne sarà introdotta una nuova a gennaio. Auspichiamo, conclude Straniero, che questa volta diminuiscano effettivamente gli atterraggi da ovest e di conseguenza si attenui anche l'impatto sui comuni del Meratese.